gentili telespettatori buona giornata ecco come si elegge il presidente della repubblica allora questi sono i voti che servono mille e otto voti i deputati cioè i deputati sono quelli che sono alla camera di montecitorio e poi ci sono i senatori che sono quelli a palazzo madama i deputati sono 630 i senatori sono 320 ma manca un seggio dopo la decadenza di adriano cairo non è stato proclamato il successore pertanto 630 più 320 e poi ci sono i delegati regionali che sono 58 quindi totale per eleggere mille e otto voti andiamo a vedere per i primi tre scrutini la maggioranza deve essere di due terzi per eleggere il presidente della repubblica ci vogliono 672 voti per le prime tre votazioni dalla quarta votazione in poi ci vuole la maggioranza assoluta 505 voti che è il 50 per cento più uno 505 voti ed è qui che potrebbe entrare in campo berlusconi perché il centrodestra ha 450 voti ne mancano 55 grazie a tutti e buona giornata